Si accelera sul piano vaccinale nelle Marche. La regione ha risonota la tabella di marcia che consentirà di completare entro aprile la prima fase per gli over 80 e di garantire entro l'estate l'immunità alla maggior parte della popolazione. Tutto sarà documentato nella nuova sezione pubblicata sul sito internet istituzionale. Attualmente il numero di vaccini effettuati si aggira sui 6.000 al giorno ma si conta di arrivare ad almeno 10.000 dosi grazie anche a quelle effettuate dai medici di medicina generale. Il cronoprogramma è suddiviso in 13 categorie con altrettante modalità di accesso. La diversa priorità nella somministrazione varia in base all'età delle persone e alla presenza o meno di patologie. Nelle scorse settimane è iniziata la vaccinazione degli estremamente vulnerabili che sono seguiti dal sistema sanitario regionale. Tra loro i pazienti dializzati e trapiantati che vengono chiamati dagli operatori e vaccinati negli ospedali. Chi avesse difficoltà a raggiungere i nosocomi può rivolgersi al medico di famiglia. Invece dal 29 marzo le persone estremamente vulnerabili che non sono seguite nelle strutture ospedaliere e quindi non sono convocate in automatico potranno prenotare attraverso una lista dedicata sulla piattaforma delle poste. Le liste poi verranno distribuite ai punti vaccinali ospedalieri che dovranno concordare gli appuntamenti. Tra le priorità del piano strategico rientrano anche i disabili gravi che saranno vaccinati ad aprile. Ai pazienti ricoverati nelle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private la somministrazione sarà effettuata senza prenotazione e a titolo gratuito da parte del gruppo Coscare. Invece i disabili non assistiti dovranno rivolgersi ai medici di base che garantiranno la vaccinazione. Se il dottore non aderisce all'accordo regionale se ne farà carico il Dipartimento di Prevenzione dell'area vasta competente. Seguiranno entro il mese di aprile le prenotazioni dei conviventi e dei caregiver sia dei pazienti disabili che di quelli estremamente fragili. Fanno parte di questa categoria anche i genitori, i tutori e affidatari dei minori di 15 anni che rientrano nella categoria di estremamente vulnerabili e che non potendo essere vaccinati direttamente saranno protetti tramite la vaccinazione dei familiari conviventi. Altra categoria per la quale verrà avviata ad aprile la vaccinazione è quella delle comunità residenziali. In questo caso le somministrazioni saranno eseguite nei punti vaccinali allestiti nelle sedi dell'Asor. A chiudere l'elenco del prossimo mese c'è la fascia di età 70-79 anni che potrà prenotarsi sul sito delle poste e vaccinarsi nei centri predisposti sul territorio. A maggio invece sarà la volta degli under 60 con più patologie seguiti nelle strutture ospedaliere. Loro saranno contattati dagli stessi ospedali. Per chi invece non è seguito da specialisti ma comunque con morbidità la profilassi partirà dal mese di giugno e sarà necessaria la prenotazione. Sempre da giugno infine toccherà le persone di età compresa tra i 60 e 69 anni, mentre a luglio la fascia che va dai 16 ai 59. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha annunciato che a maggio e giugno verranno coinvolte anche le categorie economiche, le forze sociali, le imprese e gli ordini professionali.